Con l'impatto della ricerca ci impegniamo per conoscere le storie di cercatori abuzzesi che lavorano in Italia e all'estero e ci impegniamo per crescere la curiosità della ricerca nelle giovani generazioni, attraverso attività nelle scuole. Con l'impatto della ricerca intendiamo occuparci in modo consapevole di ricerca e innovazione perché crediamo che la nostra comunità normale, la Bruzzo, abbia l'urgenza di recuperare la capacità di continuare il talento e i talenti nel disegno del proprio futuro. Con il patto per la ricerca ci impegniamo a mobilitare le nostre comunità locali nella promozione della ricerca e dell'innovazione perché crediamo siano le leve di sviluppo del territorio abruzzese. Grazie.